in nome della civiltà. Dopo i bombardamenti di città e borghi. Inizia la guerra di liquidazione. L'Italia ha scelto che le sue azioni siano nel nome della civiltà e dell'ordine, e per proteggere le persone dai ribelli. I governi d'Europa hanno scelto di crederci senza che nessuno si accorgesse che i ribelli nella lingua del nostro popolo sono i popoli della terra e che l'Italia aveva aperto contro di noi una guerra di sterminio con il pretesto di una parola vuota.